Ciao a tutti, chi ti ama davvero fa queste tre cose. Prima di approfondire questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale. Felicità e benessere di cui ti posto il link in descrizione. Allora, chi ti ama davvero, veramente, fa tre cose fondamentali. La prima cosa è mantiene la coerenza tra ciò che dice e ciò che fa. Questo è fondamentale. Se una persona ti dice ti amo, ti desidero, voglio fare questo, voglio fare quell'altro, ma poi non metti in atto un comportamento allineato a quello che dice, significa che non ti ama. Ma in tutti quelli che ti dicono lascerò mia moglie, non ti preoccupare, presto, domani, il mese prossimo lascerò mia moglie, poi non la lasciano, non ti amano. C'è poco da fare. Chi ti ama dice delle cose e poi le fa, rispettando esattamente tutto quello che dice. Questa sembra una cosa banale, ma molte persone invece poi trovano sempre delle scuse, trovano sempre delle situazioni di altro genere, di altra natura, è perché in quel caso lì non ti amano, non ti amano assolutamente. Se uno o una ti ama, fa esattamente quello che dice. Quindi se vuoi capire un primo indicatore è fondamentale. La seconda cosa che fa una persona che ti ama è ti dà fiducia. Perché se non ti dà fiducia e quindi è geloso o gelosa, vuole controllare, non si fida di quello che fai, è perché comunque non ti ama, c'è poco da fare. Se una persona non si fida è perché non ti ama. Se si fidasse sarebbe tutto diverso. La fiducia e l'amore vanno di pari passo, non sono due cose separate, due cose che non c'entrano nulla l'una con l'altra. Sono veramente fondamentali. La fiducia è fondamentale. E poi la terza cosa è il rispetto. Rispetta, rispettare cosa vuol dire? Rispettare vuol dire evitare di giudicarti negativamente. Poi si può discutere un comportamento, si può discutere una cosa, ma il giudizio negativo espresso per fare male, quello è un qualcosa che non va, non funziona, non va bene. Non è rappresentativo dell'amore. Questo è importante. Se non c'è un rispetto, se non c'è un sostegno, se non c'è una solidarietà, significa che quella persona semplicemente non ti ama. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Taramasco. Iscriviti al canale e seguimi anche sul mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.